Ali, per chi l'ha conosciuto come l'ho conosciuto io, è una grande perdita, una grande, grande perdita. Lui ci teneva molto all'oro olimpico. In qualche occasione, quando ci vedevamo, ci siamo visti moltissime volte, non mancava di ricordarlo. Facendo quei gesti come faceva lui, portava dei puni, dei colpi, ti fintava qualche cazzotto. E tutto si buttava in un ridere. Il messaggio che lui ha lasciato fuori era molto coraggio. In quei tempi, ovviamente, essere nero in America, non considero anche un cittadino di seconda classica, credo che lui aveva la coraggio e, come dicevo, in inglese, ha provocato un po' di pensi e anche usato il suo potere di essere un atleta, e anche un boxeo, a un livello mondiale, sapeva che potrebbe prendere avanti. È stato il campione dei meno, dei più poveri, dei più bisognosi, di quelli che non avevano la fortuna per poter essere riconosciuti e essere ad un certo livello. Io credo, molto sicuramente, che sport ha fatto un po' di barriere. Abbiamo ancora un po' di barriere, ma inizia a continuare a diminuire. Come Nassar Mandela ha detto, che sport può finire in fronte di pregiudice, come ha provato in la World Cup di Rugby in South Africa. Quindi, credo che sia un messaggio che abbiamo un po' di potenza. Credo che molte persone ci vedono non solo come umani, ma anche qualcosa di più speciale. E se prendiamo avanti di questo messaggio, spero che possiamo farlo in modo positivo. Perché è importante essere presenti a Louisville? Lei rappresenterà lo sport italiano al funerale di un grande campione. Intanto rappresentare lo sport italiano mi inorgolisce molto, moltissimo. Vuol dire che ho raggiunto quello che desideravo quando ho incominciato a fare lo sport. E questa è la misura, questo è quello che mi farà sentire veramente vicino a lui. In quest'occasione, per me sarà quello che mi porterò nella memoria per tutta la vita. Per me, per rappresentare l'Italia e anche l'Olympica è un grande onore. Credo che stiamo cercando di provare che l'Olympica è lì. L'Olympica ha lasciato un traccio, un sede, e credo che sta crescendo. E ovviamente è un grande messaggio per il resto del mondo che l'Italia cambia, perché la cultura cambia. Essere l'Italiano in America vicino a Muhammad Ali nel suo ultimo viaggio. La sua vita è un grandeemoscolato. Ha vinto l'Olympica! La sua vita è un grande